Sembrava un'isola felice Pescara fino a qualche giorno fa con contagi zero riportati su un paio di report medici consecutivi e con le settimane precedenti ai minimi storici di casi e un abruzzo a due velocità con l'area metropolitana pulita, il terramano e l'aquilano alle prese con diversi casi di variante delta. Ma da qualche giorno la situazione nel capoluogo adriatico è cambiata, complici anche e soprattutto i viaggi all'estero e alcuni assembramenti sportivi. Il professor Paolo Falsi, primario del reparto di virologia dell'ospedale di Pescara spiega le dinamiche della curva del contagio. Arrivano i voli dall'estero, controlli, monitoraggi e evidenziano che la variante delta Pescara adesso c'è e come? Allora innanzitutto pure ieri ci sono stati due positivi su 30 soggetti sottoposti a tamponamento di ritorno da Londra e quindi c'è anche questa novità. Poi l'altro ieri invece c'erano stati nove soggetti, tutti giovani, che erano risultati positivi dal rientro da Malta e precedentemente ancora qualche positivo che si era positivizzato evidentemente dopo un viaggio in Grecia o in Spagna piuttosto che nella stessa Malta. qui ormai anche in Abruzzo c'è la variante delta, incide per il 30-40% forse pure di più, tutto il resto è variante alfa, cioè inglese e tutta questa è tutta situazione figlia ovviamente dei viaggi fatti all'estero in zone dove evidentemente ci sono stati, ci sono dei focolai di Covid-19. Ecco i soggetti sono tutti giovani, prevalentemente giovani, quindi soggetti che nella stragrande maggioranza dei casi non è stata vaccinata. Quindi tutto sommato è quello che sta succedendo era prevedibile e purtroppo è successo. Professore, alla luce di questa situazione il fatto che ci siano stati in ogni caso assembramenti anche per i festeggiamenti ma anche per gli europei in generale è un dato preoccupante? È preoccupante sì perché già abbiamo avuto dei casi, non sono stati molti, di soggetti che si sono positivizzati dopo dal rientro da Roma per essere andati a vedere la partita della nostra nazionale e anche un altro signore si è positivizzato dal rientro da Wembley che era andato lì per motivi professionali. Quindi ci aspettiamo nei prossimi giorni un aumento dei contagi, aumento che essenzialmente sarà legato ai festeggiamenti.